buongiorno a tutti oggi sono a casale monferrato come sempre mi faccio vedere un po di paesaggio per ora sono sempre sull'autostrada ma fra poco si esce io non voglio uscire ti rispondo al cellulare un chingo che ho da fare io non voglio uscire solamente l'altra sera stavo a vomitare forse io non so c'era di cosa vuoi fare a vedere per stare l'aroma da di fare che non so il fatto più no, io no io non voglio darti spiegazioni io non penso cambierò io non sono come te mi piacerà farò l'anormale che è facile io non sono come te che non mi scrivi a chiedere la radice che se sbaglia c'è sempre chi me lo dice io non voglio cambiare solo credere di stare bene fa vomitare vorrei troppo urlare per potermi ricordare che la voce va fare a tutti quelli che che puoi darmo la sola ecco siamo all'uscita di casale monferrato sud mettiamo la freccia purtroppo è sempre con mezzi pesanti non è che posso andare a tutte le parti ci sono di vieti comunque casale monferrato è bellissima non è che posso andare a tutte le parti non è che posso andare a tutte le parti non è che posso andare a tutte le parti non è che posso andare a tutti spesso ci sono lavori che noi bisogna passare dalla corsia del tele e passare E andiamo in direzione Alessandria Asti. E ora qua. E ora qua. E guardate che bello allontananza le campagne del Monferrato. E andiamo in direzione Alessandria Asti. E andiamo in direzione Alessandria Asti. E andiamo in direzione Alessandria Asti. 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 Grazie.